Con oltre 35.000 dipendenti, un giro d'affari annuale di circa 6,1 miliardi di euro e una presenza in oltre 50 paesi del mondo, Salini Impregilo è tra i global player nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture complesse. Specializzato nella realizzazione di dighe e impianti idroelettrici, oltre che ferrovie e metropolitane, aeroporti e autostrade, opere di edilizia civile ed industriale. Quotata sul Fuzzi Italia Mid Cap dal 1 gennaio 2014 con una capitalizzazione di 1,5 miliardi, Salini Impregilo è posizionata al primo posto nella classifica delle imprese italiane operanti all'estero, simbolo della creatività e dell'engineering italiano nel mondo. A gennaio 2016 il gruppo ha acquisito la società statunitense Lane Construction con una transazione del valore di 406 milioni di dollari. Con più di 45 impianti produttivi e attiva in 28 stati, Lane Construction è un costruttore di autostrade e un produttore privato di asfalto degli Stati Uniti. Un'operazione che consolida il percorso di internazionalizzazione dell'azienda, ampliando le opportunità di crescita in un mercato strategico come quello americano. Ad un anno dall'acquisizione di Lane Construction, gli Stati Uniti rappresentano oggi per il gruppo il 25% del totale dei ricavi consolidati.